Ciao amici di youtube, qui con voi è ScialeBoom, Zai e oggi siamo in un nuovo video! Mi vado a vedere di qua, ciao belli! Se vedemo... Oh oh oh! Avuto anni nonno! Sono un po' in ritardo... Ma il pacco veng si doveva fare per... E vinciamo! Dagli! E vinciamo la prima gara! ScialeMunza è proprio lui! Incredibile! Vedete oggi la postazione è cambiata, siamo in un video un po' particolare, siamo nella prova a non ridere challenge, e lo speciale di 50 iscritti! E' una mattinata dannata, come sempre! Che non c***o è la macchina ma ti dà guagliore... Oh c***o! E' Dex! Sei tu! Aspetta... What the move? Ehi, ma quello sono io! Si! Si, sei tu! Ciao Dex! Il mio canale che dobbiamo crescere insieme! Taggio d'Ivolo e ce l'ho mancato! E' da noi! Ciancherini! 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 Il mio canale delhmare! Il mio canale del BOOM! Ma voi mi direte, ma da dove le hai prese queste parole strane? Questo nome strano? Da questo signore qua dietro che vedete, no? E' mio nonno. E lui allora mi chiama sempre... Sciale, Zai, e c'è giunto il boom dentro perché sti fenomeni, capis, spaccano, boom, capito? Capito no? Sì! Saluto a Sciale, Zai! Come hai detto dal titolo, oggi siamo nello speciale 2000 iscritti, davvero, grazie, 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 non so più, come ringraziarvi? Nello speciale dei 5000 iscritti, davvero, mamma mia, ragazzi, grazie, 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 io non so più, come ringraziarvi, stiamo crescendo così. Grazie mille, grazie mille, è passato un anno, 14.700 iscritti, in un anno, quindi sono veramente tantissimo. Cocomelo! E baffa il culo, cocomelo per tutte e due! Buono! È buono il cocomelo, sembra anguria! Cocomelo è anguria! Appunto in questa sfida ci sono degli obiettivi, quello di fare determinate vittorie e ti danno appunto delle cose. Io ho avuto il baule d'oro 8000 iscritti. Sciale, boom, video sul canale, vogliamo di più, trovo il baule, non vinci tu, una destinazione solo su YouTube. Come ti sentiresti se arrivi a 100.000 iscritti? Cioè, 100.000 iscritti sono 100.000 persone, cioè, sono tantissime. E la cosa più bella, no, forse la più bella, però, una delle cose più belle... E fare tanti soldi con 100.000 iscritti, a parte... Ragazzi, avere la targhetta. Mamma, ragazzi, la targhetta è tantissima soddisfazione. Siamo arrivati a 50.000 iscritti a 5.000 iscritti a Napoli. Hai capito, frate tuoi? Ma chi è questo? Chi sta parlando? Ma chi è questo? Tu, non è asciutto. Ma io ho avuto i giovani a Cilio, fammi sento, no? Wow, 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 quanto tempo? Un frate non lo portava, eh? È un sacco di tempo. Bacchiamo subito, dai! Ragazzi, visto che questo è un video speciale, notate, no, 1.500.000 iscritti. Lasciamo 5.000 mi piace. Oggi si ritorna con la prova a non ridere challenge. Con il tè speciale, 25.000 iscritti. Buona visita. No, no, no! Save! 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 No, phone, can't stop aruba! Save! 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 Bello! Sei! 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 Sei Sei ci relates il mio figlio a 300 mila iscritti c'è la propina che sia solo all'inizio e sia solo un inizio prova giovanni che poi vedremo questo mio trovano quando saremo migliori magari a fare un piccolo discorso ringrazio tutta la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto da da tre anni a questa parte guarda realizzata da dove posto ringrazio tutti che gli stanno scrivendo questo momento all'inizio del canale ringrazio tutti i miei amici su youtube tutti i miei amici giovanni francesco l'altro giovanni tutti tutti voglio tutti vi ringrazio tutti perché vanno sempre sostenuto lavoro e sacrificio portano poi a grandi soddisfazioni a grande gioia e grande felicità quindi questi 100 mila iscritti oggi li festeggiamo con la mia famiglia e con i miei amici grazie auguri ad amma e salta grazie a tutti